Il sindaco di Iglesias, Maurusai, a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la città, esprime cordoglio per la scomparsa di Monsignor Tarciso Pillolla, vescovo emerito di Iglesias. Dal 1999 al 2007, scrive in una nota Maurusai, Monsignor Pillolla aveva guidato la diocesi con attenzione e partecipazione, rappresentando un punto di riferimento per tutta la comunità. Come vescovo di Iglesias, in anni nei quali proseguiva e si aggravava la difficile crisi economica e sociale nel nostro territorio, aveva dimostrato grande vicinanza al mondo del lavoro, restando al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati a tutela del proprio impiego, ha messo in evidenza Maurusai. Oltre a questo, lo ricordiamo come un grande uomo di cultura ed un giornalista attento a dare voce alle tante realtà della nostra città e del suo territorio. Il suo ministero non si esauriva nell'ambito esclusivamente ecclesiastico, ma la sua è stata una presenza discreta e collaborativa, ha concluso Maurusai, in un costante dialogo con il mondo delle istituzioni, che aveva come fine la tutela della fragilità degli ultimi, con grande umanità e spirito fraterno di vicinanza.